Buongiorno a tutti, mi chiamo appunto Martina Gresta e lavoro in Saipem nella sezione offshore. L'argomento di cui tratterò è già stato toccato in varie presentazioni, quindi sarò breve. Vi racconto un po' l'esperienza di Saipem con i trapianti di posidonia oceanica. Quindi brevemente i contenuti. Tutto parte da un'osservazione di un ripopolamento naturale che è stato osservato appunto a capo feto. Da qui è nata una collaborazione con il CNR di Castellamare del Golfo per avviare una sperimentazione per una nuova tecnologia di trapianto di posidonia oceanica e quali sono i possibili scenari futuri di utilizzo dei trapianti. Saipem è un leader mondiale nei servizi dell'oil and gas, quindi vanno da drilling, dall'ingegneria, procurement, construction e istituzione. L'installazione sia di linee che di complessi progetti, sia onshore che offshore. E appunto ci troviamo a volte nell'esigenza di ripristinare shore approccio, comunque aree dove si approda con la linea. Capo feto è già stato spiegato, già stato presentato in varie presentazioni appunto, è la località nella quale il Transmed arriva a terra. A capo feto i lavori sono stati realizzati da Saipem e la località era caratterizzata da un grandissimo prato di posidonia che ha subito una prima operazione di dragaggio negli anni 80 e una seconda operazione di dragaggio negli anni 90. E questa immagine riassume, anzi mostra, come l'ambiente è stato poi modificato da queste attività. Quindi si vede la trincea e il prato di posidonia a lato. Questa immagine rappresenta brevemente invece, anzi schematizza appunto questa situazione, quindi il posidonieto ai lati della trincea e all'interno della trincea è stata realizzata una massicciata di blocchi di calcare a protezione dalla trincea. Appunto questi blocchi di calcare che sono stati messi all'interno della trincea hanno favorito l'attecchimento di nuovi propagoli di posidonia oceanica che come potete ben vedere è andata a colonizzare le valli. Probabilmente per questioni di correnti, quindi condizioni idrodinamiche, posidonia si è attecchita nelle valli di questi rubble mounds. Dal 93 al 99 è stato documentato questo recupero naturale della prateria attraverso appunto questi propagoli vegetativi. Non sono stati osservati impianti stabili né su superfici incoerenti come sabbia e ghiaia e né sulla mat morta, ma solo su questa massicciata. Quindi è nata da qui una collaborazione con Cianera di Castellamare del Golfo, da questa prima osservazione di ripopolamento naturale è nata questa sperimentazione. Una prima sperimentazione che ha riguardato studi di attecchimento, di ancoraggio delle radici di posidonia e poi la realizzazione di una sperimentazione in mare di una nuova tecnica di trapianto di posidonia oceanica appunto la realizzazione è mediante questi materassi di pietrame per la quale Saipem ha brevettato la tecnologia. Appunto questa è la tecnologia brevettata, sostanzialmente sono dei materassi di pietrame di diversa abbezzatura sul quale sono stati posizionati i rizomi di posidonia. Quindi gli obiettivi erano di valutare l'idoneità di questi materassi e di definire la metodologia ottimale di trapianto quindi come questi rizomi sono stati poi ancorati all'interno di questi materassi. Questo studio sperimentale è stato realizzato a Capofeto, questo è un esempio delle unità sperimentali quindi questi materassi di pietrame e questa è la raccolta del materiale che è stata posizionata mediante ancoraggio con fascette di plastica, mediante ancoraggio all'interno di reti elastiche con tutore quindi l'ancoraggio direttamente sul ciotolo oppure con il posizionamento del trapianto su delle slot inserite all'interno dei materassi e il posizionamento del trapianto in cassette inserite all'interno dei materassi. Queste sono immagini che mostrano come erano i vari materassi di pietrame all'inizio della sperimentazione, maggio 2012 che è durata più di un anno. I parametri che sono stati analizzati sono la persistenza, la sopravvivenza, la mortalità, il numero di rizomi prodotti per ramificazione i rizomi insediati spontaneamente e in generale la biometria e l'accrescimento quindi la sperimentazione ha dato dei buonissimi risultati per quanto riguarda la sopravvivenza e l'incremento anche dei fascicoli fogliari quindi questo è come il rizoma era a maggio 2012 e invece questo è come il rizoma era alla fine della sperimentazione e quindi mostrando sia un accrescimento laterale ma anche un notevole sviluppo di nuovi fasci fogliari. Complessivamente i materassi di pietrame utilizzati in questo studio mostrano una buona capacità di trattenere i trapianti il substrato roccioso appare particolarmente idoneo allo sviluppo dei trapianti e il tasso di allungamento orizzontale dei rizomi e il tasso di ramificazione risultano essere superiori ai valori riportati in letteratura. Questa è come poi era la situazione ad ottobre 2014 quindi in seguito alla fine della sperimentazione e questo appunto lo stesso rizoma ha mostrato prima. Questa metodologia è stata inserita anche all'interno delle linee guida ISPRA per la conservazione e la gestione della naturalità degli ecosistemi marini, degli ecosistemi prossimi. In conclusione questa mitigation hierarchy appare sempre di più nei nostri progetti quindi si cerca appunto sia di avoid, di minimizzare e di ridurre gli impatti ambientali però spesso si deve anche arrivare ad una misura di restoration quindi si è sempre alla ricerca di metodologie di trapianto maggiormente efficaci e sostenibili sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista scientifico. Io ho finito. Vi ringraziamo tutti soprattutto per la pazienza